Il Consiglio dei Ministri per evitare la diffusione eccetera, fra lì ci sono attortate anche quelle relati alla sospensione, sospensione attenzione, dell'ufficio didattico, delle uscite didattiche dei viaggi di istruzione. In Italia e all'estero, informa che in atto estero dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto eccetera, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi. C'è indubbiamente tensione fra i dirigenti scolastici che si trovano ad affrontare questa emergenza legata al coronavirus, alcuni dicono insomma con pochi strumenti fra le nostre mani, in alcuni casi come ad esempio nell'istituto che vedete alle mie spalle è stato deciso di evitare la ricreazione con le classi aperte. La razza fondamentale è quella di evitare gli assembramenti e allora ho chiesto ai ragazzi della mia scuola di effettuare l'intervallo nelle proprie aule, proprio per evitare la commissione di ragazzi di classe diverse e assembramenti più vasti. Certamente non è neppure questa una situazione ideale, però mi è sembrato corrispondere anche ad un'idea di tracciabilità, di controllo di quello che fanno i ragazzi. Fermo restando che il controllo che possono avere le scuole si limita alle ore mattutine e quindi non comprende ovviamente l'intera vita dei ragazzi. Quello che i ragazzi fanno esternamente alla scuola non è di competenza della scuola. L'argomento gite scolastiche e viaggi d'istruzione è un bel grattacapo, per quelli interrotti ci potrebbero essere conseguenze economiche per le scuole e i dirigenti scolastici. Mettiamo che annulli questo viaggio, chi paghe 34 mila euro? Cioè domani chiunque mi può far causa anche a me, no? Allora, bisognerebbe che il ministero adottasse dei provvedimenti che coprano almeno finanziariamente in parte quanto le famiglie vanno a perdere, perché questi sono soldi già versati. Questi giovani devono partire il 3 di marzo. Che cosa succede nel caso in cui un ragazzo non rientri, diciamo, da zone oggi considerate focolaio? Voi dirigenti scolastici, come vi dovete comportare? Noi dobbiamo segnalarlo all'autorità sanitaria, locale. Chiusura delle scuole, un atto necessario, cosa ne pensa? Ma, cioè, se l'autorità governativa ritiene necessario compiere questo atto, cioè, occorre rispettarlo e collaborare, diciamo così, senza tante polemiche. Spero che di non arrivare a questo per l'ottimismo che è la, diciamo così, la condizione di serenità personale a cui io ho fatto riferimento poc'anzi. Lei ha detto, giustamente, i ragazzi sono con noi per 5 ore, 6 ore al giorno, quindi chiudere le scuole, non chiudere i supermercati, i negozi, tutti quei luoghi dove comunque c'è affollamento, non lo so, ha senso? Eh, diciamo così, la sensatezza di quello che si fa è discutibile. Per cui, diciamo così, in una situazione di emergenza, come dire, c'è da rispondere solamente obbedisco, mi sembra che questo debbano fare i dirigenti dello Stato e tutti coloro che svolgono delle funzioni pubbliche.